Salve a tutti amici e amici di casa di Roma e siamo di nuovo su Attila Total War 35esimo episodio in cui siamo sbarcati nella nostra caramata Spagna dopo anni, a momenti secoli dall'ultima volta che siamo arrivati in Spagna ed è stato un assalto fallimentare se non vi ricordate la prima campagna franco settimana in cui eravamo rimasti bloccati qui dove ora ci sono più o meno i separatisti romani, comunque in questa zona dei Pirenei ma adesso siamo riusciti a sbarcare con un attacco a tradimento in quel di Pompelo, non Pompeio, Pompelo Pompelmo Adesso l'intento principale è quello di seguire la rotta dei territori a settimane cercando di tenere un occhio di riguardo a ovviamente i Geati che però dobbiamo tenere comunque in considerazione il fatto che i Galli e sì, i Geati sono attaccati continuamente, non si sa come dalle flotte dei Galli cioè i Galli le buscano sempre ma riescono come ho già detto in un commento a cavarsela in ogni modo ricordate che abbiamo un commercio con Cartagonova ma mi è stato detto e qui prendo e parto con i due commenti principali che Tarraco è un ottimo porto da assediare lo assedierò con questa flotta che sto facendo sì che circunnavighi la Spagna e dopo Tarraco, grazie anche ai commenti di Edoardo e Levin che saluto mi è stato detto anche di attaccare poi Narbo che sarà un altro porto commerciale importante perché vedete segna la rotta commerciale dei nostri nemici ostili direttamente nelle coste di Napoli con i separatisti romani vediamo se vogliono l'accordo commerciale adesso hanno accettato la nostra offerta perché vedono che tra poco noi miglioreremo e... OH MIO DIO! OH MIO DIO! porca puttana! ma siete impazziti? cioè io credevo di essere il sovrano di questo mondo in realtà sono la puttana di turno stavo dicendo che loro accetterebbero molto volentieri un accordo commerciale dato che tra poco svilupperemo le gemme allora vediamo un attimo io dovevo passare il turno e basta dovevo anche tenere d'occhio i unni che li ho persi di vista vediamo nella mappa politica se li trovo loro sono segnati qui che stanno assediando i sassoni in futuro uno sviluppo di un esercito qui non sarebbe molto non sarebbe malaccio perlomeno o comunque perlomeno colonizzare con i bagaudi vedo che ci sono dei separatisti romani qui vicino a Vesonzi vabbè non ci lamentiamo ragazzi passiamo il turno evitiamo di perdere ulteriore tempo altrimenti il nostro caro amato faramundo che è reinato ci taglierà la testa come fanno quelli dell'Isis maledetti che tra l'altro ho appena scoperto che quei bastardi dell'Isis hanno preso Palmira e cominciarono probabilmente a distruggerla io ho un patrimonio dell'UNESCO stupendo Palmira e non ho parole per definire quelle bestie se non che inculatrici di capre e vabbè lasciamo perdere vediamo la settimana la settimana non ha fatto niente un cazzo non ha fatto niente guardate qui ci hanno due eserciti pieni e devono essere sicuramente quei due eserciti degli anni scorsi degli anni passati i Galli dovrebbero fare qualcosa abbiamo una sovrappopolazione in Germanica abbiamo 3442 di introiti è molto buono mi è stato detto scazzone colonizza tutto l'Oriente se possibile proverò anche a colonizzare l'Iperboreo in futuro la scizia perché ci daranno un buon bonus e saremo lontani dai problemi ci avvicineremo sempre di più all'Oriente e potremo anche scendere poi verso le regioni della Persia potrei anche provare a raggiungere questo territorio che è desolato della Sarmazia Germanica ma vedete che se esco meno 6 quindi non possiamo ancora farlo vedo che qui si stanno avvicinando pericolosamente questi ma non capisco cosa vogliono fare mi è stato detto tra l'altro che non a scazzogna ma a nova scazzogna no forse a Tullifurdum sì c'ho un agro mercenario e infatti me l'hanno detto io lo tolgo grazie mille per avermelo fatto notare che mi avete anche risparmiato un bel po' di dindi poi scendiamo ancora io devo capire dove sono i uni perché altrimenti non dormo sogni tranquilli io non penso attraverseranno il canale della manica almeno il mio timore non dovrebbe essere quello abbiamo creato finalmente il nostro utensilista potremmo creare un maniscalco ma ci aumenta troppo lo squallure e non potremo sopportarne il peso diciamo dello sporco della sporcizia poi un bel solco qui non sarebbe male a scazzogna vai creiamolo tanti soldi ce l'abbiamo e ad auscalis potremmo tranquillamente migliorare il consumo di cibo con un ordine pubblico che scenderebbe a meno uno ma possiamo permettercelo però la fertilità è molto bassa qui è praticamente nulla quindi direi mettere un greggio di capri come sempre aspettiamo ancora nel nord prima di colonizzare però qui ragazzi ad Eccisburg mi sono ricordato che devo colonizzare qui cioè devo unire la frisia la unirò con queste non con questo ma con quello lì con quello di Tullifurdum la unisco perché altrimenti rendiamo troppo sguarnita la regione della pomerania questa antica regione da cui venivano i goti si pensava allora vedete che qui la settimagna è avanzata pericolosamente non so se sono in guerra con i separatisti romani quelli della settimagna sono in miglioramento no non sono in guerra ma sicuramente stanno cercando di arrivare da me ma io campero con Alberigo il divino Alberigo nella regione di Pompelo bene vediamo se l'Africa vuole commerciare adesso alto hanno accettato anche quelli dell'Africa molto bene vediamo un attimo per curiosità mica per altro cioè se io uscissi un attimo abbiamo anche Cesare Augusta e sapete cosa facciamo ragazzi? si pentiranno di aver lasciato Cesare Augusta così sguarnita io faccio una battaglia guardate lì come accetta Alberigo una battaglia così e saccheggio saccheggio e basta non vi preoccupate torniamo a Pompelo bene che tra l'altro mi sembra Cesare Augusta della nostra regione sono stato un cazzone non dovevo ho agito d'impulso va bene non avrei dovuto saccheggiarla però vabbè Pompelo allora dobbiamo distruggere e smantellare tutto perché questo non appartiene alla nostra cultura ed è un problema ogni volta adesso che cominceremo a colonizzare territori romani perché finché abbiamo colonizzato territori britani e germanici ci è andato di lusso per adesso no vediamo un attimo come reagiranno quelli della settimana adesso che gli abbiamo anche saccheggiato un piccolo territorio però direi di provare a reclutare un non campione dannazione non mi serve il campione mi serve un'altra spia questo all'Indum dobbiamo creare un'altra spia all'Indum e direi di creare Bojorix così da poterlo mandare in Spagna e capire cosa diavolo sta succedendo al prossimo turno lo manderemo ragazzi vediamo ancora qui la situazione come si evolve vorrei fare una dannata battaglia in questo episodio così almeno da rendere un po' più interessante la faccenda perché ve l'ho detto ragazzi non combattere la battaglia dà una vita eccoli arrivano quelli della settimana ragazzi teniamoci pronti e i galli ritornano a Bordigala pronti per evitare la conquista della cittadina ma noi saremo pronti anche a Pompelo a Pompelmo missione assegnata stabilisci dei rapporti commerciali con la settimania ma io sono in guerra con la settimania sei impazzita? abbiamo anche un altro esercito ad acqua e sexti a quanto pare i geati hanno dichiarato guerra ai separatisti africani può essere un buon momento per dichiarare un'alleanza con i separatisti africani ci vedono male molto male dunque no niente alleanza con i separatisti mi ricorda tanto Gheddafi questo tizio tra l'altro anche la tripolitania sotto controllo quindi tutto torna dobbiamo essere pronti amici la settimania sta avanzando con eserciti enormi ma se noi riusciamo a difenderci ragazzi possiamo farcela avanziamo in quel del Portogallo potete vedere che mentre la flotta avanza i geati stanno riprendendo Bracara molto bene sta andando a nostro favore con questa anche flotta dell'Ispagna che probabilmente andrà contro o Ispalis Ispalis o Cordoba vediamo sarà importante tenere il fronte a Pompelo per adesso perché ragazzi se noi teniamo il fronte contro questi eserciti evitiamo che la settimana poi diraghi nei confronti dei Galli perché vi ricordo che questo passo comunque questo territorio era sempre un crocevia per i settimani per andare ad attaccare i Galli se noi resistiamo e resisteremo ce la faremo forse da una parte destabilizziamo i settimani che non potranno facilmente riprendersi hanno ancora un esercito ma è comunque una grossa perdita e dall'altra parte daremo una grande mano ai Galli a Galli allora ragazzi questa spia la facciamo sbarcheare qui a Durocortrum sperando di non incappare in eserciti Unni no perché ve l'ho detto ragazzi io preferisco intanto dirigere i miei sforzi contro i settimani contro quegli altri a sud i geati non intanto contro gli Unni che si sono pericolosi ma sono troppo forti non potrei permettermi di controllare la loro potenza allora Eccisburg possiamo già migliorarla potete vedere e allora noi ad Eccisburg abbiamo un controllo dell'ordine molto ma molto basso ma non abbiamo nessuna fretta di migliorare l'ordine pubblico potremmo anzi migliorare un deposito di gemme produzione di gemme diamanti sono beh i migliori amici dell'uomo delle donne soprattutto costa parecchio ma ci dà più più risorse che possiamo poi esportare con i nostri partner commerciali e nel prossimo poi o miglioreremo una casa del capotribù che è la cosa più probabile oppure un territorio in cui poter zappare la terra ma in questo territorio tutte foreste dell'Estonia non mi pare affatto utile zappare la terra dell'Estonia qui siamo in Lituania più che Estonia comunque o in Lettonia questi paesi qui possiamo a Scazzonia migliorare la possiamo fare un bel upgrade possiamo togliere questo edificio in rovina che sicuramente non c'è d'aiuto e guardate i galli stanno andando ad assediare i sassoni penso si sono in guerra con i sassoni dunque stanno andando contro di loro mi chiedo quanto resisterà ancora a Visonzo dunque ragazzi prepariamoci prepariamoci all'assalto definitivo o almeno credo che tra l'altro mi è stato detto chiesto di parlare di settimane lo farò in questo episodio ma dal prossimo turno voglio capire prima vedere cosa succede è un momento cruciale siamo in Spagna peggio un momento più caldo rispetto a quando negli anni 30-20 ci fu la guerra civile spagnola con Franco noi siamo franchi tutto torna coincidenze io basta non ne posso più di quella scena ecco sta a loro attenzione hanno camperato di certo io non li attacco io non li attacco ragazzi perché attaccare un accampamento vuol dire perdere 30.000 uomini e tra l'altro non siamo neanche un esercito full mentre loro si ne hanno due non uno due qui Bracara prima che cadrà ci passeranno tutti perché non capisco per quale motivo l'IA invece di attaccare fa si che la capitale muoia di fame e passano anni cioè per far si che l'IA distrugga e conquiste una città con le mura eeeh acqua sotto i punti ragazzi mandiamo un attimo questa spia per capire come sta andando qui la faccenda e lui la facciamo un attimo tornare qui le spie diciamo le voglio tenere così per controllare i confini dell'imper del regno più che dell'impero per avere tutto sotto controllo c'è una spia qui ma ce n'avevo un'altra qua infatti eccola qua mandiamola di qua questa per ora nessun problema sono le 11 e tutto va bene oh e vediamolo un po' qui è estate piena infatti si vede i territori che un tempo sono coperti dalla neve adesso sono delle sporche paludi a scazzogna potevo migliorare e non c'è neanche bisogno di migliorare il campo perché potete vedere abbiamo 160 di fertilità il che è piuttosto buono ma si dai creiamo un artigiano che ci da 300 dell'attività produttiva dobbiamo essere sempre più ricchi ragazzi sempre più ricchi vediamo se uscendo riuscissimo riusciamo a colonizzare angulus colonizzare vai abbiamo finalmente preso angulus ragazzi e abbiamo potete vedere unito finalmente dopo anni il nord perlomeno questo territorio dello Schleswig Holstein della Danimarca e purtroppo adesso ci siamo anche beccati probabilmente la malattia cioè quella che un tempo si era diffusa da Alabu non so se vi ricordate con Eckebert quindi la pestilenza di Eckebert un po' come nel ritrovamento della tomba di Tutankhamon si ripresenta ai giorni odierni consunzione ma la toglieremo una volta costruito un solco anche qui ad angulus sperando poi che Carl non muoia dalla 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 sì dalla figa dalla 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 consunzione direi di migliorare l'ordine pubblico vorrei costruire un marmista ma non mi serve adesso devo sistemare l'ordine pubblico non ho soldi va bene allora aspettiamo aspettiamo ancora la flotta l'ho spostata no non l'avevo spostata mamma mia ragazzi mi stavo dimenticando della flotta ecco che attraversiamo le colonne d'Ercole oh mio dio guardate quanti geatici sono qui oh mamma e c'è anche una flotta nemica tra l'altro questa cavolaccio porca miseria oh mio dio se ci attacca la flotta siamo fottuti allora passiamo il turno allora chi sono i settimani ragazzi io ve l'ho già detto in un episodio passato molto lontano ma i settimani non sono un popolo non sono un popolo sono una regione della dell'impero romano della Gallia Narmonensis principalmente quindi la Provenza questa regione qui che è bellissima andate a visitare la Provenza perché è stupenda però i Galli erano morti erano assimilate all'impero romano erano latini quindi la Provenza in realtà la Gallia e l'Armonensis era romana popolazione come poteva trovarsi a Roma con cultura romana e con lingua romana era una provincia come la poteva essere la Britannia non era un popolo ma adesso vi spiegherò un pochino la storia di questa provincia attenzione si sono mossi un pochino hanno cambiato di 30 centimetri la disposizione maledetti voglio fare una battaglia però non posso attaccare non posso permettermi di mandare scusate un momento della campagna per fare una battaglia Brunilde corrompiamolo ah dannazione mi sono dimenticato di dare le cariche allora Clodoalda sempre giudice supremo Gisbert non può fare nulla perché è un maledetto può diventare un giudice supremo stavolta lui no Gisbert non può fare nulla Baldraccone non può fare nulla lui può diventare signore della guerra Idkis lo facciamo diventare un anziano Korn lo facciamo diventare un anziano finalmente Mommolin un compagno in Mommolone vieni qua Mommolone Mommolone vai poi Anselmo il nostro maggiordomo non può fare nulla Wulfard capo tribù mi sa che si incazza stavolta Wulfard troppe gente troppe persone quando muoiono abbiamo Faramondo che ha tre anni adesso forza Faramondo cresci cresce e riporta allo splendore antico il nostro la nostra casata sai sapete cosa me ne frega niente non me ne frega se è della nostra oh cazzo tanati come un topo a Pompelo e già che ci siamo recluta un altro uomo è l'unica cosa che possiamo fare anzi no non reclutare un altro uomo ma un mercenario io non esco da quella città no no piuttosto campero fino alla morte vedo che per fortuna qui la flotta non c'è più e noi ci avviciniamo da Cartagonova a Tarraco vediamo un po' c'hanno una bella flotta ah mamma mia hanno portato tutti gli eserciti qui ora ci attendono con la gangbang e ci attendono a questi settimani forza galli attaccate braga e buttatela giù ci penso io alla settimania i galli pensino ai geati io penso alla settimania ognuno ha i propri compiti i galli i geati e io la settimania vediamo se posso migliorare qualcosa ad angulus sicuramente potevo fare qualcosa e infatti posso distruggere questo intanto e ad eccisburg posso già migliorare ragazzi c'è una una crescita della popolazione incredibile in questi territori lontanissimi della sarmazia germanica forse proprio perché sono lontani la gente vuole allontanarsi dalla guerra ma qui dobbiamo migliorare pompero perché se no l'ordine pubblico va a quel paese e dobbiamo migliorare una casa del capo tribù qui volevo convertire ma non posso dobbiamo aspettare ancora voglio capire dove sono gli unni eccoli qua vesonzio tra tre turni si arrende e quest'altra spia la riportiamo qua gli facciamo fare avanti e indietro tutte le volte come appunto il metronomo come il metronomo per segnare il tempo avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro sta di fatto che questa regione che era romana nel terzo secolo nel quinto sacro dopo Cristo siamo alle 460 fu invasa dai visigoti che si stabilirono come federati nella regione della settimania il termine settimania non sappiamo esattamente da cosa deve ma ci sono due ipotesi uno è che disigna una cittadina in questa zona che era dimora dei veterani della legio septima dalle septimania legio settima altra ipotesi che c'erano sette città ora tra cui Nîm e altre città francesi attuali che non mi ricordo che appunto disegnavano questa regione quindi la regione dalle sette città ok no ricominciano con le spie adesso con i dignitari dobbiamo usare la flotta e conquistare Tarraco che adesso è sguarnita ognuno ha la propria carica felici e contenti no Baldraccone è incazzato nero e dunque direi di utilizzare una donna per accoppare Baldraccone però guardate ho tantissime donne e mi è stato detto Simone vedi di maritarle vediamo di maritarle uno con una donna cioè Aude maritiamola con Carl c'ho qualche altra donna libera Teodorada con Mumolone vediamo se accettano entrambi Anselmo il maggiordomo vediamo di dargli una donna rimane Gundrada che possiamo dare probabilmente ah Gundrada e Brunilde rimangono che possiamo dare a qualcuno possiamo dare forse a qualcun altro qualche altro nostro amico l'Ispagna per esempio no combina matrimonio facciamo un'alleanza militare hanno rifiutato alleanza militare e combina matrimonio io ti do Gundrada mi sembra no Brunilde oh hanno accettato siamo diventati alleati militari con i galli abbiamo dato anche Brunilde molto bene adesso la nostra alleanza è tremenda potete vedere ma cosa è successo Yunni che fine hanno fatto ma che cazzo era Besonzi era sotto assedio adesso non è più sotto assedio perché Yunni sono scomparsi tutti si sono sciolti tutti nonostante sia inverno come la neva al sole ma che cavolo dove sono finiti sono qua sono un pochino a nord ovest a nord est di Besonzio come è possibile mandiamo la nostra spia di qua ma che stanno facendo noi lo riportiamo qui evitiamo che sia mali ad Angulus comunque rimane sull'ordine pubblico perché c'è la nostra guarnigione ad Eccisburg potevamo migliorare infatti e dobbiamo migliorare l'ordine pubblico così da poterci spostare più liberamente nelle altre regioni so che la fertilità lì è a zero ma finché non cala va bene allora vedete che qui la situazione non si sblocca ma la nostra flotta ragazzi dobbiamo provare a mandarla avanti ma voglio vedere un attimo qui cosa succede qui c'è ancora l'esercito quindi rientriamo a Pompelo ah è vero potevo creare qualcosa a Pompelo e creo questo una cascina intanto per resistere alla storia perché se saremo assediati la cascina ci sarà utile teniamo sotto assedio Tarracolo e guardate qui oh mio dio hanno un casino di liburne non ci posso credere cavolaccio questi ci fanno fuori tutte le liburne ve lo dico io teniamo l'assedio per ora vediamo come si evolve la situazione e passiamo il turno quindi cosa successe poi nel 460 i goti si stabilirono qui dopo tante migrazioni e fu concesso loro di entrare come federati si accamparono e tenevano sotto controllo la regione nulla non fate finta di nulla la regione di di Tolosa quindi qui nell'occidente pieno soltanto che l'imperatore romano non consentiva non dava loro l'indipendenza non riconosceva loro l'indipendenza nel 462 Rishi Rishi Mero attenzione la settimana qui è arrivata con l'esercito ma quanti eserciti hanno oh madonna e io pensavo di avere la flotta potente qui le buschiamo e basta ritiriamoci assolutamente sperando che non ci inseguano ma ecco lo sapevo allora ragazzi siamo a un punto di svolta abbiamo la città da difendere di Pompelo con Alberigo il nostro generale il nostro signore che ragazzi se dovesse morire sarebbe un casino per la nostra casata ma guardate qui quante unità hanno tantissime unità un attacco unito di settimane e geati tra l'altro hanno anche uno nagro e dovrò usare la mia cavalleria a quel punto potete vedere che hanno anche arcieri unni a cavallo abbiamo tutti unni settimane e geati io combatto nella cittadina sul campo battaglia importantissima ragazzi se vinciamo vinciamo bene cioè togliamo di mezzo due eserciti tre eserciti in uno possiamo farcela 454 anno cardine per la nostra battaglia e quindi cosa successe settimane rishimero diede a loro a questi visigoti per accontentarli la parte occidentale della settimania che era sotto controllo visigota e nel 475 un anno prima della caduta dell'impero romano d'occidente i visigoti diedero quella parte che rishimero aveva dato ai visigoti stessi indietro la risero all'impero romano d'occidente che era comandato dall'imperatore Giulio Nepote a patto che però i romani acconsentissero all'indipendenza il riconoscimento dell'indipendenza di visigoti cosa che accadde e poi ovviamente la settimania ebbe una storia un po' travagliata con da una parte i franchi tra l'altro che arrivarono e la conquistarono nell'ottavo secolo dopo cristo rendetevi conto quindi noi possiamo conquistare la settimania è un buon auspicio ragazzi mettiamo delle barricate qua pronte a tenere il fronte vedete che c'è una sorta di qui dove siamo a pompero una sorta di anfiteatro romano sotto costruzione e noi la nostra ultima resistenza la terremo qui nel caso andasse tutto a quel paese ma possono entrare da diversi punti possono entrare da qui e da qui da qui e da qui noi dobbiamo bloccare coscienziosamente vediamo da dove arriva il grosso dell'esercito il grosso dell'esercito mi sembra sia qua sono vedete lanceri della steppa sono unni questi ragazzi e lanceri i comitatenzi c'è un miscuglio di unni e romani dunque il fronte principale noi proviamo a tenerlo qua sperando che non arrivi teniamo le nostre picche qui che le picche saranno utili se non di più nel mantenimento del fronte poi dobbiamo tenere un altro fronte qui e un altro fronte qua e uno qui mamma mia ragazza dobbiamo dobbiamo camperare camping is the way è l'unico modo in questo caso teniamo un lanciere qui a tenere la difesa qui ci metto altri germani che però devono stare in sul fronte cioè sulla punta della della discesa della rampa così da far sì che gli altri si stanchino i nemici poi teniamo altre picche germaniche qui le picche dobbiamo tenerle qui qui è il punto più debole ragazzi perché il punto più alto più aperto più che alto del muro che cerchiamo di difendere con coraggio e per cui dobbiamo mettere più unità possibili a camperare il maggior numero possibile di spazi quindi teniamo a chiudere il muro però un pochino più indietro non sarebbe malaccio anche loro quest'altra unità di signori germanici li teniamo così bene loro non chiusi non chiusi perché tanto è inutile e questi altri invece ragazzi li dobbiamo tenere qua dietro dietro a questa guardina perché tanto abbiamo chiuso tutto qui non entrano qui non entrano qui non entrano no qui non entrano degli air band elite con spada due li teniamo qui non si sa mai perché tanto arriveranno delle unità da qui vedete che ce ne sono anche tante air band elite con spada li teniamo un pochino più arretrati qui air band elite con spada soprattutto li teniamo qui bene questa guardina se dovessero conquistarla ci attaccherebbe alla stragrande ah ho sbagliato tutto devo metterla qui ecco lo sapevo ho scazzato tutto e voi state così con le picche dietro pronte a soccorrervi bene ragazzi un fronte veramente pauroso la cavalleri ragazzi abbiamo i cavalleri germanici che non avevo mai visto vediamoli molto belli e allora abbiamo anche questi il signore della guerra hartnid che però lui lo teniamo qua pronto a resistere all'assalto finale insieme al nostro alberigo guardate albergo che cerca di emulare faramondo e dice cacchio mi mancano i baffi vorrei tanto averli ma mi dispiace non ce li ha la cavalleria dobbiamo capire dove l'onagro noi ci teniamo qui teniamo l'unità qua pronte a girare e teniamo gli antrustrioni i cavalieri franchi anche su questo lato qui forza ragazzi per faramondo via siamo in netta minoranza il nemico è stato avvistato il nemico ha dei rinforzi che arrivano da qui ma io voglio vedere l'onagro ragazzi l'onagro che mi preoccupa e soprattutto questi arcieri uni a cavallo che non hanno paura di nulla il loro attile è morto ma sicuramente sarà un grosso problema per noi attenzione ci stanno inseguendo attenzione ci stanno inseguendo con la cavalleria da sparo tra l'altro ma noi li facciamo fuori e li uccidiamo questi briganti germanici a cavallo della britannia proprio e noi li stiamo attaccando ma vedete che abbiamo questa cavalleria unna che ci sta sparando a tradimento ma possiamo resistere dai ragazzi resistete resistete stiamo subendo il fuoco dei nemici dov'è l'altra cavalleria che cosa stanno facendo questi ma quanta cavalleria ho mandato io quanta cavalleria avevo oh oh attenzione attenzione l'abbiamo sfiaccati finite loro è un'imboscata non vi preoccupate voi fate i fianchi larghi per evitare di essere colpiti finite loro finite questo gruppo di mercenari forza uomini sono gruppo di mercenari ovviamente la cavalleria può resistere oh mio dio attacco di cavalleria eccolo il lonagro sto vedendo lonagro mandiamo la cavalleria qua giù mandiamola qua giù è il principale nemico da affrontare in questo momento la cavalleria oh mio dio i lanciari se ne fregano guardate i lanciari comitatensi lasciano che i loro amici i loro fratelli germanici stiano combattendo a morte contro la mia cavalleria e riescono a farci perché sono in frenesia piena i miei uomini più 10 attacco corpo a corpo guardate qui nella sterpaia innevata e anche gli arciari uni sono andati a quel paese bene attenzione abbiamo le picche dietro abbiamo le picche che si avvicinano ecco il motivo per cui hanno deciso di 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 smollarsela attenzione la cavalleria dobbiamo utilizzarla con coscienza si stanno avvicinando via via andate via andate via uomini andate via cavalleria con questa cavalleria cerchiamo di allontanarci guardate quanti nemici oh mio dio siamo 2252 siamo cioè sono il doppio di noi via probabilmente ragazzi la mia la mia faccia andrà via perché purtroppo il mio il mio telefono non riesce a supportare più di 40 minuti di registrazione ma questo video voglio farlo lunghissimo voglio combatterla tutta questa battaglia attaccate è il momento di attaccare anche loro però voi riunite i ranghi perché tanto potete farcela cerchiamo di sfiancarli prima possibile loro si sono fermati quindi ragazzi io la battaglia la concludo anche se sentite sulla mia voce forza finiteli stanno arrivando sparate di precisione finite le picche perché sono un problema cosa fanno questi cosa stanno facendo dovevo disattivare madonna devo disattivare la modalità schermaglia e mi sono dimenticato di farlo no mi sa che l'ho attivata altro che attacca l'onagro con quella cavalleria lontana miseria questi scemi bene le picche le abbiamo sfiancate via via da qua via da qua con loro dobbiamo avvicinarci con la cavalleria bene uomini stiamo cercando di resistere forza forza uomini dove dove stanno scappando maledizione la cavalleria allora finiamo questa cavalleria eden con patate questa qui forza uomini forza dobbiamo resistere per faramondo forza pic resistete resistete miseria ladra bene qui si stanno già ritirando molto bene uomini resistete resistete sparate su questi lanciari comitatensi questi se ne sono andati via non sono più un problema questi uomini poi li utilizzeremo ragazzi non vi preoccupate dobbiamo resistere intanto alberigo risolleva il morale dei tuoi uomini questa cavalleria lo smollata possiamo provare a uccidere gauti attenzione con questa cavalleria mandiamola in alto mare si in alto mare abbiamo distrutto anche l'onagro bene 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 la cavalleria sta facendo il lavoro sporco dobbiamo distruggere gauti se uccidiamo gauti il loro morale andrà a pezzi dobbiamo cercare di combattere su più fronte attenzione qui c'è il pienone ma i nostri uomini riescono a resistere forse credo di sì qua la stanno vedendo brutta i nostri uomini tornate qui questi schermaiatori devono dirigersi qui al centro questa sarà una battaglia lunghissima ragazzi non voglio sentire poi per 10 episodi fare una battaglia allora fate un muro e attaccate questi maledetti dannazione la cavalleria qui ci sta uccidendo ci sta uccidendo la grande voi dovete provare ad andare così poi andate così voi con questa unità deve provare a sacrificarsi uccidete gauti e voi disarcionate questi giavellottisti rimanete compatti le picche devono andare via assolutamente devono andare qua perché il loro margine di azione è questo porca miseria maledetti unni arcieri via porca miseria non me ne sono accorto sparate su di loro almeno un colpo vai il generale nemico è morto non ci posso credere non ci posso credere con un colpo al primo colpo l'abbiamo ammazzato che culo qui invece sta succedendo di bordello cazzarola diavolo diavolo dove è gauti no mio dio la cavalleria sta andando a quel paese mi stanno facendo la gangbang da tutti i lati unità in grande vantaggio via allontaniamo questa allontaniamo almeno una cavalleria proviamoci cacciatore di teste uomini anche voi cacciatore di teste allora è il momento di mandare avanti questi uomini loro li lasciamo qui porca miseria anche loro sono scappati lasciamo che ce li ammazzino tutti non appena questa cavalleria sarà pronta teniamo un attimo gli uomini così ah dannazione via riteniamo un po' questi finite loro provate un po' ad attaccarli quando finiranno i colpi sarà la fine per noi no tornate indietro tornate qui tornate qui dobbiamo tenere il fronte però gli abbiamo ammazzato un generale perlomeno dannazione però noi abbiamo ammazzato gauti o si allora era quello che è morto i franchi qui sono distrutti uguale qui uguale qua mandiamo avanti loro ok loro hanno finito i colpi mandiamo i nostri picchieri così e idem con loro dannazione stanno continuando a sparare spero finirà oh mio dio stanno mandando avanti tutte le unità di ma di lancio è la fine è la fine Alberigo resisti forza sparate sul nemico sparate su ancio bibolo di precisione uomini anche questi non stanno facendo è finito dal tempo della batteria ragazzi forza maledizione stanno continuando a sparare questi unni merdoni quanto li odio allora è il momento di avanzare con loro me ne frega niente teniamo queste picche qui a difesa per quanto poco possono fare è l'ora di avanzare con loro è l'ora di avanzare con loro sui fianchi uomini attaccate anche loro andate così cerchiamo di chiuderli in una morsa fatale stanno attaccando il nostro generale stanno attaccando il nostro generale miseria vai più indietro Alberigo vai più indietro anche voi no voi dovete andare voi dovete invece andare cazzarola anche tu entra in battaglia Alberigo torna indietro guardate qui c'è un mischione assurdo ragazzi il fronte destro è veramente qui al centro le stiamo buscando letteralmente forza uomini resistete dobbiamo dobbiamo fargliela pagare dobbiamo far allora noi siamo in vantaggio qui ma dobbiamo mandare anche le picche per sicurezza mandiamo loro facciamo circunnavigare loro gli uomini da attiro facciamo circunnavigare le facciamo attaccare ai lati è l'unico modo porca miseria ho perso la cavalleria non doveva accadere non doveva forza uomini resistete sono troppi allora noi con questi qui li mandiamo qua invece queste unità non dobbiamo dobbiamo sempre tenere in scacco il nemico in qualsiasi istante qui l'onagro per fortuna è scappato io penso di aver ammazzato più che il generale dei settimani dannazione qui stanno scappando tutti tutti stanno scappando è l'ora di attaccare di lato è l'ora di attaccare di lato anche le picche e invece loro li facciamo attaccare a questi qua forza no non deve crollare il fronte non deve crollare il fronte alberigo lo dici te lo dici te maledetto no 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 forza uomini attaccate da dietro dobbiamo fargli perdere più uomini possibile siamo a gli abbiamo ammazzato la metà dei nemici potete vedere è il massimo che veramente potevamo fare mandiamo loro state così uomini alberigo deve resistere alberigo deve resistere e entrate in combattimento contro loro contro anicio bibolo e fategli vedere chi è che comanda forza uomini sparate sparate a più non posso bene stiamo facendo scappare questi i nostri i nostri uomini qui tra le rovine che sono gli urban delit con spada stanno cercando di resistere ai guerrieri nordici delit dannazione abbiamo usato tutti gli uomini non so se ce la faremo più ormai ma noi guardate stiamo sparando da dietro come veramente dei fetenti ed è la cosa che ci riesce meglio essere fetenti ma non abbiamo più unità se non che questi che bene o male stanno scappando e stiamo lasciando un po' di fiato ai nostri uomini ma non è possibile i nostri urban delit con spada sono in grande svantaggio contro quelli delit nordici porca miseria uomini entrate in combattimento e fate un cacciatore di teste anche voi uomini dobbiamo fargli capire fino alla fine dobbiamo resistere se perdiamo questa battaglia perderemo con onore ragazzi spero che vi stia piacendo ma guardate qui guardate qui i nostri grandissimi frombolieri la stanno facendo vedere al nemico che si sta piano piano ritirando Alberigo non deve morire non deve morire salvate il soldato Alberigo altro che salvate il soldato Ryan resisti resisti Alberigo spingete uomini spingete con quelle dannate picche e sicuramente la morte del generale ha causato una un ritiro un ritiro di massa maledizione forza uomini inseguite questi maledetti inseguiteli questi uomini devono fare da sacrificio devono cercare di resistere di tenere i uomini lontani ma qui è il fronte centrale che sta piano piano cedendo i nostri uomini stanno avanzando a fatica potete vedere guardate oh mio dio ragazzi veramente uomini come un'unica unità resistete resistete per resistete per faramondo resistete per faramondo Alberigo tieni tieni il morale dei tuoi uomini alto tieni il morale dei tuoi uomini alto guardate qui un cumulo di cadaveri veramente io non so più cosa dire i nostri uomini qui stanno facendo la fila come all'imps per scappare soltanto che stanno veramente scappando oh mio dio se il fronte centrale crolla dal punto di vista del nemico noi forse ce la facciamo a circondare questi maledetti stanno mandando dei rinforzi vedo non si arrendono i nemici dannazione continua a sparare continua a sparare fino alla fine attacca loro e tu attacca loro forza 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 Alberigo Albergo resisti ok noi stiamo continuando a far si che loro scappino i nostri Airband Elite con spada stanno facendo il loro cerchiamo di resistere guardate qui guardate qui gli Airband Elite con spada stanno cercando di resistere più non posso con i guerrieri Nordici Elite e i nostri uomini hanno mandato tutti i loro colpi facciamo si che anche loro finiscano gli ultimi e intanto finiamoli circondiamoli accidenti Alberigo Alberigo non morire non puoi morire non puoi morire ora Alberigo se muori Faramondo non potrà più cioè non potrà più fare il suo noi stiamo continuando a sparare stiamo dando fuoco di copertura ai lanciatori germanici che come degli eroi oh mio dio oh mio dio il fronte centrale sta quasi crollando tutti tutti contro di loro tutti contro di loro risparimate i colpi su questi finite loro attaccate tutti ma maledetti devono morire tutti Alberigo Alberigo resisti va bene no non va bene ma va bene allo stesso tempo lì c'è un confronto un confronto pauroso qui tra i nostri nobili con spada e i loro nobili d'elite oh mio dio vai vai con le masse vai con le masse non me ne frega niente sono rimasti e un 870 noi siamo 640 forza uomini il centro il centro va male il centro scusatemi il fianco destro sta andando più che troppo male sta andando forza uomini finite loro fate un'indistruttibilità momentanea ma è pur sempre un'indistruttibilità uccidete loro i guerrieri nordici d'elite è rimasta un'unità anche a loro i lanciari nordici ci hanno fatto malissimo ci hanno distrutto ma Alberigo deve resistere oh l'abbiamo distrutti andiamo uomini con un unico uomo circondiamoli da dietro è il momento ragazzi anche qui i guerrieri nordici sono morti tutti i nostri grandissimi urban delite con spada li stanno finendo uno a uno guardate qui a questo gli stanno tagliando la testa e adesso noi li prendiamo da dietro forse il fronte destro riesce a resistere ancora un pochino perché noi mandiamo tutti frombolieri spadaccini tutti mentre questi grandiosi eroi stanno cercando di mantenere tenere testa potete vedere ah oh mio dio a questi schermaiatori trall ma hanno hanno la peggio stanno avendo oh mio dio bene li abbiamo circondati tutti i nemici stanno perdendo non ci posso credere 370 370 contro 540 è stata una battaglia epica epica ma che costo che costo ci è costata questa battaglia i nostri guerrieri fanno ah la 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 il canto stanno in testa del canto greco abbiamo vinto ci sono rimasti 500 uomini vittoria pirica ma ragazzi per me questa è una battaglia epica no 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 mio dio mi sa che è crashato tutto non ci posso credere è crashato tutto porco avete presente quando vi va via la voglia di vivere ecco uno di questi momenti è proprio questo avevo vinto una battaglia enorme strepitosa e come se non altro quindi oltre ad aver perso la battaglia il salvataggio che ho fatto prima di fare la battaglia non me l'ha caricato si blocca sempre e crasha crasha in automatico ogni volta che carico quel salvataggio e ho dovuto caricare il salvataggio con cui ho iniziato questo video quindi il video di oggi è andato a puttane in pratica tutto quello che ho fatto in questo video non esiste quindi cosa succede ragazzi io provo a continuare quello che stavo facendo guardate dove siamo la nostra flotta miseria è ancora qui devo rifare tutto da capo io arrivo ho fatto 5 turni continuo i 5 turni e riprendo temporaneamente da dove sono rimasto oppure ditemi voi ragazzi ditemi se volete vedere di nuovo da capo il tutto ma non penso rifaccio da me tutto quello che ho fatto fino ad ora se succede qualcosa di strano ve lo dico perché il mio timore è che se dovessi raggiungere di nuovo i prossimi 5 turni crasherà di nuovo spero di no ma veramente è stata una battaglia strepitosa quella però lo registrate e ve la cuccate comunque ci vediamo come sempre in un prossimo episodio lasciate un like un commento e condividete questo video se vi va e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio speriamo senza crash ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie per la visione!